Buongiorno, il progetto Officine dell'Acqua è un progetto che nasce dall'Associazione Bene d'Epoca Verbano, un'associazione che nasce da appassionati di barche d'epoca e dalla volontà di salvaguardare le barche si trasforma in un'associazione di promozione sociale che ha lo scopo di trasmettere un sapere. L'Officine dell'Acqua è il culmine di questo progetto e vuole riqualificare, ridare una dignità architettonica a una grande ampia area in disuso che sono i vecchi magazzini di Ferrovie Nord e trasformare questa ampia area in una struttura che abbia una funzione espositiva, quindi rievocativa di quello che è il passato e qualcosa invece di molto più generante, cioè una struttura formativa dove ci sia la possibilità di trasmettere il sapere legato alle attività artigianali del territorio e dell'acqua, quindi la costruzione di una scuola che manca in tutta l'Europa continentale, che è una scuola dei maestri d'Acello. Questo è il grande sogno, i lavori sono già cominciati, le istituzioni sono al nostro fianco questa grande opportunità che è un'opportunità per il territorio e per le prossime generazioni.